di Davide appunto lui dice la cosa che mi infastidisce nelle discoteche perché mi parla sotto questo medico della cefalea qua e vabbè aspetta fratello infatti la cosa che mi infastidisce nelle discoteche come nella vita è la superiorità degli individui e qui si potrebbe, cioè potrei fermarmi qui perché e no perché qui spiega tutto al mio segnale scatenate l'inferno a tre settimane da oggi io mieterò il mio racconto immaginate dove vorrete essere perché così sarà serrate i ranti, seguitemi se vi ritroverete soli a cavalcare su 20 braterie col sole sulla faccia non preoccupatevi troppo perché sarete dei campi elisi e sarete già morti fratelli a mio segnale scatenate l'inferno fratelli ciò che facciamo in vita riechezza dell'eternità ti chiamo massimo decimo meridio comandante dell'esercito del nord generale delle legioni Fenix serfo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio madre di un figlio assassinato marito di una moglie uccisa dietro alla mia vendita questa vita o nell'altra questa vita o nell'altra al mio segnale scatenate l'inferno fratelli ciò che facciamo in vita riechezza dell'eternità io non sono stato il migliore perché uccidevo velocemente ero il migliore perché la folla mi amava conquista la folla e conquisterai la libertà conquisterò la folla e darò qualcosa che non ho mai visto prima al mio segnale scatenate l'inferno fratelli adres a tre settimane d'oggi io vienerò il mio rapporto immaginate dove vorrete essere perché così sarà serrate i ragazzi seguitemi se vi ritroverete soli a cavalcare su diversi praterie col sole sulla faccia non preoccupatevi troppo perché sarete nei campi elisi e sarete già morti sarete già morti a a a a a a a Pistaño!